Fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche, insomma un vero e proprio paradiso per chi ama le fotografie d'epoca. Ad Arezzo, domenico 8 maggio, torna così l'appuntamento con Foto Antiquaria, la storica mostra mercato organizzata dalla Fondazione In Tour in collaborazione con il Fotoclub La Chimera. Nel palazzo della Fraternita dei Laici, affacciato su Piazza Grande, dalle 9 alle 17, oltre 20 espositori provenienti da ogni parte d'Italia daranno vita alla singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali, usate o fuori produzione, e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari ed introvabili. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. Grazie alle manifestazioni di eccellenza come Foto Antiquaria, commenta Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo in Tour e assessore al turismo, e grazie ad appuntamenti ormai storici come la Fiera Antiquaria, Arezzo è sempre più un punto di riferimento per il mondo dell'antiquariato e del collezionismo. Nata nel 1986 e prima in Italia, Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali, un in primavera e una fine estate, ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche.